Sotto voce, là in fondo, si sente benissimo, non c'è bisogno della purificazione, di là, di qua. Dovunque tu sei, anche se sussurri, si senti, se fai capire un'unica, si senti, perché dà una purificazione fantastica. Anche questa, da caso, è il problema del mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo. Mi prendo, tecno, pregio, c'è anche per il GIs, quello, di tutti i crisi vivano, esistenti. Come si è arrivato qua, si sa perché il Comte Gorani era l'U.U. che dava spasso e già allora andava in Sud America. Elevano, essendo un prodotto sudamericano, lo portò a casa per il suo viaggio nel 1770. Era stato scritto. E si è salvato perché aveva preso il nostro bisogno di rubare il suo spazio. Probabilmente non ci arrivavano, oppure non davano valore al Cristo, al leno della Croce. Ma perché se lo vedessi da vicino, ha l'espressione bellissima. Sembra tutto fuori che sofferenza. Se si fotografa, poi dopo si riesce a fare le giugno con la macchina. Ecco, poi vediamo gli stucchi, anche gli angeli che sono piuttosto generosi. Bello è che poi facciamo anche i carangeli a mia madre. Anche quelli messi su. E' bella la storia. E' bella la storia.